Voi vi siete battuti, vi siete infuriati ieri dopo la notizia del no alla black list, no? Cosa proponevate voi? Sono uscite e devo dire che gli eventi come si sono susseguiti, soprattutto per la questione MPS, per non parlare delle quattro banche a partire dalla banca Etruria, lasciano perlomeno la mare in bocca ai cittadini di questo paese, se non la rabbia, perché stiamo vivendo il paese delle emergenze molto pesanti. E ogni volta c'è stato detto, anche da opposizioni, quando abbiamo presentato emendamenti per l'urgenza, parliamo del terremoto, ma ce ne sono molte altre, il percentuale di disoccupazione, il costo del lavoro, che purtroppo non si poteva sforare il debito, qua sono stati trovati 20 miliardi, e malgrado questo, per salvare il sistema economico del paese ed altro, perlomeno i cittadini avranno il diritto di sapere chi si è portato via da quelle banche, miliardi, miliardi di euro, che adesso pagherà lo Stato e quindi tutti i cittadini del paese, per quanto riguarda le banche di Etruria e le altre banche coinvolte hanno pagato i risparmiatori, potremmo sapere chi sono stati, che rapporti c'erano tra la dirigenza di queste banche e le persone a cui sono state prestate questi miliardi, ovviamente con garanzie molto scarse, se sono nulla e che questi soldi tornassero indietro, perché altrimenti legittimiamo un modo di comportare nel quale c'è qualcuno che, ovvero lo Stato, ovvero i cittadini di questo paese, che copre sempre e qualcun altro che i miliardi se li può prendere, perché io domando, e penso che ogni cittadino comune che ha avuto un rapporto con l'istituto bancario lo possa testimoniare, se uno chiede 10 mila euro in banca di prestito deve sudarsele, altro che glieli dà, questi qua davano 600 milioni, un miliardo, tre miliardi, come se nulla fosse e dopo non tornavano, e addirittura ristrutturavano il debito dicendo, vabbè, guarda mi dovevi un miliardo dammene 100, 100 milioni se ne ho posto, c'è mai successo che lei con 10 mila euro la banca dice, guardi dammene sono mille se ne ho posto, c'è qualcosa che non funziona, il sistema delle regole che deve valere per tutte.